La mia figlia è nata nel 63, insegnavo in una magistrale moltsessorio, una mia collega frequentava le sue lezioni sulla noventana, allora era il punto d'incontro e ho cominciato a frequentarlo e ovviamente a chiedergli anche in maniera confidenziale un aiuto, perché ero veramente terrorizzata neanche vent'anni di fronte a una bambina che pesava un chilo e sette alla nascita, prematura, che non ingogliava il latte per tre mesi perché non aveva ancora indurito le piclotti dell'apparato d'ingogliamento, quindi che andava verso il piacere dell'incorporazione questo con la mia natura artistica già capivo, che era la sua forza vitale, veramente un grande desiderio di vivere, immaginate un esserino così con due occhi di fuori che cercava di assorbire il latte e che poi gli ritornava fuori tutto dal naso, quindi piacere e dispiacere combinati sui quali mi interrogavo anche se io allora non è che ero appassionata di psicologia come oggi e a Sargioli mi ha dato tante risposte dicendomi che avrebbe trovato, risposte di aiuto, di rinforzo vero, che avrebbe trovato la sua via perché in lei non si spegneva il desiderio, quindi ho cominciato a mettere il desiderio al centro anche della mia relazione con lei che era molto difficile perché essendo stata ospedalizzata come prematura per due mesi lei aveva avuto grande brutalità, frustrazione, per cui era difficile anche cullarla, toccarla, vestirla e le uniche cose che lei amava erano l'acqua e la musica, quindi ho cominciato allora a interessarmi a quelle che erano delle sensazioni piacevoli che ho percepito perché io facevo scultura, in pratica ero un po' come una ragazza di bottega per tutto il periodo di formazione, liceo artistico all'inizio all'accademia con Fazzini e quindi avevo amato molto tutto quello che significa colate in gesso, cera, come apprendista stregone diciamo, quando fece la sala nervi, il Cristo che risorge, lo chiamavano lo scultore del vento perché gli dava questo andamento lineare, praticamente era fatto tutto in polisterolo e quindi noi preparavamo queste lastre di polisterolo che poi dopo venivano fatte a fuoco, insomma come modello, per dire il piacere delle materie, delle materie che si trasformano, che io avevo sulla pelle è stata una grande ispirazione, assecondata dall'aiuto psicologico che mi dava Sagioli, che diceva l'importante è spiare il suo desiderio, ecco allora seguendo questa strada io ho scoperto per esempio un giorno stavo in cucina, lei aveva il bagno attivo e lei rideva rideva mentre stava nel bagno perché quando ha aperto la porta c'era la schiuma fino al soffitto, aveva rovesciato un fustino di Dick Sun dentro la vasca e con un imbuto da gherosene che c'era lì vicino faceva su e giù e la cosa bella è che gli veniva una bolla gigantesca e lei rideva, da lì è venuta l'ispirazione delle materie, quanto piacere avevo provato io attraverso le materie, gli invischiamenti proprio di queste mani che oggi dico che la mano è un piccolo corpo con centro funzionale che è un diaframma della mano, cinque appendici come il corpo intero e che le mani, la materia, danzano queste cose, io le avevo vissute con un grande entusiasmo mio e sono ritornate, però volevo dire non è tanto l'ispirazione creativa, quanto l'aveva avuto dietro un maestro con Massaggioli che mi ha posto come primo problema di madre quello di non creare attraverso le ansie di riabilitazione, comunque c'era una diagnosi di autismo da bollea, mia figlia perché non comunicava e si difendeva anzi, quindi di non cadere nel gioco pericolosissimo, lo ritengo ancora, dell'ansia di normalizzazione, di miglioramento riabilitativo se questo era concorrenziale con il principio di piacere e con il desiderio. quindi io gli devo, e lo dico, commossa tutto questo che è essermi ricordata della bellezza e del piacere di vivere e posso dire che a 54 anni mia figlia Elvira è lo specchio di questo tipo di felicità, la felicità di stare al mondo e di poter scegliere o rifiutare. Quello che mi commuove non è tanto la sua storia, quanto la storia di tante altre persone che ho conosciuto in seguito, professionalmente, che vengono messi da questo sistema nella condizione di non poter scegliere, ecco, e quando, e questo è il discorso che si ricollega al viandante, e quando un essere umano non può scegliere, ha perso tutte le sue possibilità di seguire i desideri. Quindi, ecco, io credo profondamente che va a salvare. Guardato questo, la mia memoria di Assaggiori è quella di un grazia, un grande maestro di vita, soprattutto, che mi ha aiutato a tenere presente questo, che ancora oggi è una delle mie convinzioni più profonde.